Ascoltiamo nell'immediato dopo gara le dichiarazioni di Mr. Capuano. Mr. Capuano, è più contento della buona performance della squadra e quindi del risultato positivo o dell'ultimo minuto che ho visto una difesa in bambola? Vabbè, adesso diciamo oggi la prestazione del reparto difensivo ma del combattimento, cioè dei reparti è stata perfetta. All'ultimo secondo non siamo rientrati nemmeno con tutti a saltare di testa, quindi è un episodio a sé stante. Se il risultato fosse stato diverso sicuramente non avremmo preso quel gol. Sono contentissimo per la prestazione che ha dato la squadra, con tante assenze, è rimasta compatta, ordinata, ha fatto una grande prestazione. Sono contentissimo per come abbiamo prestato fino all'ultimo in modo alto, in modo convincente, con giocate sempre razionali. Ma la mia grande soddisfazione è come i ragazzi tra il primo e il secondo tempo sono stati capaci di interpretare il nostro pensiero quando abbiamo cercato di liberare Cariello sull'esterno di sinistra dove avevamo delle praterie e non verticalizzando. Penso che di lì è nata la nostra vittoria in modo convincente, in modo limpido, in modo netto. Speriamo che questo ci dia la tranquillità per lavorare nel futuro, che in questa settimana i media ci diano una mano perché ci hanno massacrato, sicuramente in modo giusto. Però io leggo oggi che il Taranto, io i numeri non li guardo. Mi sembra che è secondo a un punto dalla prima. Non ha mai perso, ha passato il turno di Coppa Italia e sembrava oggi di giocare la partita dell'ultima spiaggia, la partita della vita. È ingeneroso per tutti, è ingeneroso per i ragazzi che stanno lavorando con grande serietà, con grande caparbietà. È ingeneroso, penso, per quest'uomo che produce il massimo di se stesso, avendo sposato questa causa e tentando di difenderla fino all'inverosimile. Nel primo tempo la squadra ha presidiato il campo, ma anche nel secondo tempo il Castel di Sangolo non riusciva a trovare sbocchi per entrare nella metà campo del Taranto, non per tirare in porta, per entrare nella metà campo del Taranto. Io voglio chiarire un concetto, io non mi esalto dopo una buona prestazione, non dopo una vittoria e non mi abbatto dopo un risultato negativo in proiezione di giocate, perché io conosco il mio lavoro e vado a vedere gli errori per poterli migliorare. In sette giorni mi sembra che la squadra è cambiata totalmente, io non dico il fatto del risultato. Domenica sembrava una squadra morta, oggi sembrava una squadra viva, è vero? Quindi voglio dire che non è fumo il nostro, è un lavoro serio, razionale, frutto di programmazione. Oggi non è stata una vittoria trovata, oggi è stata una vittoria voluta, una vittoria condizionata da tante situazioni, da una grande volontà, da una grande applicazione, da grandi giocate. Avevamo sei giocatori fuori, con Ricanò a mezzo servizio, ci siamo inventati una formazione, abbiamo dovuto cambiare in corso d'opera portando ancora giocatori sacrificandoli fuori ruolo. E quindi un applauso a questi ragazzi, ma un applauso a noi e un abbraccio a questo grande pubblico che anche oggi ci è stato di grande supporto.